Buonasera, allora riprendiamo la serie dei nostri seminari interni, stasera parlerà il dottor Franco Valentini del gruppo di astrofisica dei plasmi e ci parlerà degli sviluppi più recenti della fisica solare e spaziale. Grazie, grazie Gaetano. Allora buonasera a tutti, conosciamo praticamente, ci conosciamo già, anche se non con alcuni di voi non direttamente, ma quello che vi voglio raccontare oggi pomeriggio è, diciamo, quello che facciamo dal punto di vista dell'attività di ricerca nel gruppo di plasmi astrofisici, cercherò di farlo nella maniera più leggera possibile, non vi annoierò con nessuno tipo di equazione o di formula, eccetera, o dettaglio di alcun tipo, cercherò di raccontarvi quindi una storia molto leggera e dopo avervi spiegato il sistema fisico di cui ci occupiamo e che studiamo, vi parlerò anche di un importante progetto europeo che ci vede coinvolti come gruppo al completo e in cui io ho un ruolo di responsabilità. Come avrete capito dal titolo del mio seminario si parlerà di spazio in generale e di sole e quindi vi introdurrò inizialmente il sistema fisico di cui ci occupiamo. Dunque, di solito quando inizio a fare questo seminario lo faccio con una domanda, che è che cosa c'è al di là del nostro naso, cosa c'è al di là dell'atmosfera terrestre e soprattutto quando vado nelle scuole e racconto queste cose, la risposta nel 95% dei casi è il vuoto, c'è quest'idea anche dai film di fantascienza che al di fuori dell'atmosfera solare non c'è nulla. Questa risposta può essere considerata per metà corretta e per metà sbagliata, nel senso sbagliata perché noi sappiamo che invece c'è un gas che riempie lo spazio che c'è tra terra e sole, corretta da un certo punto di vista perché questo gas, di cui parleremo nel dettaglio fra poco, è estremamente rarefatto, cioè ha un' densità talmente bassa che può essere considerato un ottimo esempio di vuoto fisico. La prima teorizzazione dell'esistenza di questo gas che riempie l'atmosfera è dovuta a questo signore che vedete qui in alto a sinistra che è Eugene Parker, un astronomo statunitense, ancora in vita, che lavora a University of Chicago, che alla fine degli anni 50 pubblicò questo famoso articolo su The Astrophysical Journal in cui ipotizzò l'esistenza di questo mezzo che poi egli ribattezzò vento solare. E alla base, diciamo, della sua modellizzazione c'erano le evidenze empiriche dell'epoca secondo le quali quando una cometa orbita attorno al Sole, la sua coda si orienta a seconda della posizione relativa tra Sole e cometa. Vedete, si orienta in direzione radiale rispetto al Sole, come se ci fosse qualcosa che la spingesse ad allontanarsi in direzione radiale del Sole. Sulla base di questa evidenza empirica, Parker creò il suo modello di questo mezzo interplanetario che egli chiamò vento solare, che adesso da osservazioni più recenti e con strumenti più sofisticati sappiamo essere un flusso di particelle che viene espulso dagli strati più esterni della corona solare a grandissima velocità, può raggiungere 700 km orari e a densità bassissima, come dicevo prima. Sì, certo, 600 km al secondo. Bassissima densità, 5-10 particelle per centimetro cubo e elevatissima temperatura, 10 alla 5 gradi Kelvin. Proprio a causa di questa elevata temperatura, tutti gli atomi che convocano questo caso sono in stato ionizzato ovvero tutti gli elettroni sono stati strappati dai loro nuclei per cui si ha un mare di cariche positive e negative. Questo sistema è detto plasma, anche detto il quarto stato della materia. Quindi è un sistema globalmente neutro formato da cariche positive e negative. Nel vento solare la percentuale di queste cariche è per lo più protoni ed elettronico, una piccola percentuale di ioni pesanti. In questo video che vi mostrerò fra poco, questo è un video di un cronografo montato sulla sonda SOHO che riprende il passaggio della cometa ISON nel 2013 vicino al disco solare che qui è stato oscurato diciamo è stato oscurata la superficie del sole per poter vedere quello che succede intorno. È un video in luce bianca e questo è quello che succede. Vedete innanzitutto gli sbuffi di materia che furiescono dalla superficie solare e questa è la cometa che passa vicino e vedete come la coda viene spazzata a seconda della posizione relativa tra cometa e sole. Questo si vede ancora meglio se sovrapponiamo diversi frame di questo filmato vedete che durante il suo passaggio la coda della cometa ruota a seconda della posizione relativa rispetto al sole. In questo video si mostra quindi l'espulsione diciamo di questo materiale al di fuori dalla superficie solare che investe tutto quello che si trova nello spazio che circonda il sole e in particolare investe anche i pianeti. Arriveremo fra poco a parlare di cosa succede quando questo gas altamente veloce è a temperatura elevatissima e investe ad esempio la Terra. Ora il plasma, vi ho introdotto che cos'è il plasma. In realtà anche se noi non ce ne rendiamo conto perché sulla Terra per lo più la materia si presenta negli stati di solito liquido e gassoso, in realtà il 98% della materia di cui è composto l'universo che noi conosciamo, il visibile, è proprio nello stato di plasma. D'accordo? Per esempio qui vi ho riportato l'esempio della laguna, della nebula lagoon. Questo è un sistema ovviamente tutti i venti stellari così come il vento solare sono formati da plasma, sono gas altamente caldi e in stato completamente ionizzato. Inoltre i plasmi vengono creati anche sulla Terra, i cosiddetti plasmi artificiali. vengono creati sulla Terra in apposite macchine, dette sperimentali, dette tokamak, di cui parleremo un po' più nel dettaglio in seguito, con lo scopo di realizzare quella che viene detta fusione termonucleare controllata, ovvero in questo tipo di macchine sperimentali si crea il plasma, viene intrappolato con delle particolari configurazioni magnetiche, se ne cerca di aumentare la temperatura fino ad innescare la fusione nucleare. Ne parleremo più nel dettaglio in seguito. Dunque, che cosa succede quando questo gas carico estremamente veloce e caldo incontra un ostacolo lungo il suo cammino? Per esempio la Terra. Nel caso particolare la Terra è un ostacolo ed è anche magnetizzato. Sappiamo che il campo magnetico terrestre in prima approssimazione è fatto in questa maniera, è come il campo magnetico prodotto da una calamita, cioè abbiamo un polo nord e un polo sud, le linee di forza del campo magnetico sono dipolari, d'accordo? Come sappiamo dall'elettromagnetismo alla forza di Lorentz, le cariche elettriche non amano attraversare le linee di forza del campo magnetico in direzione perpendicolare, no? Piuttosto ci ispira a leggere intorno. Quindi capite bene che il campo magnetico terrestre ci fa da scudo rispetto a questa radiazione estremamente energetica che proviene dal Sole. Però non lo fa a costo zero, diciamo, perché quando il campo magnetico terrestre interagisce con questo flusso di particelle estremamente energetiche viene deformato, questo è un cartoon in cui si vede appunto il vento solare proveniente dalle superfici esterne della corona solare che impatta sul campo magnetico terrestre e lo deforma, lo stiracchia, lo pettina, no? verso destra in questo caso. Quindi questa struttura che si viene a formare dall'interazione, diciamo, del campo magnetico del vento solare che si porta dietro dal Sole con il campo magnetico della Terra viene detta magnetosfera terrestre ed è un sistema fisico estremamente complesso in cui avvengono tanti fenomeni e che, diciamo, è oggetto di studio anche, diciamo, di ricerca attiva tutt'oggi. Ora, vi rendete conto però, come vi dicevo prima, le particelle cariche spiraleggiano intorno alle linee di forza del campo magnetico. Allora vi rendete subito conto che il campo magnetico terrestre ha due talloni da kill, due punti in cui è più debole, nei quali non riesce a, diciamo, bloccare questo flusso di particelle energetiche e sono i poli magnetici che, bene o male, per la Terra corrispondono ai poli nord-sud geografici. Quindi quello che succede è che le particelle spiraleggiando attorno alle linee di forza del campo magnetico riescono a penetrare nell'atmosfera terrestre dai poli. Che cosa succede quando queste particelle entrano nella nostra atmosfera? Eccitano gli attimi dell'atmosfera che quando si disecitano emettono luce nel visibile e danno vita agli spettacoli naturali noti come orore boreali. Questo qui è un video che c'era stato proprio stamattina sul sito di Repubblica TV. È un video ripreso dalla Stazione Spaziale Internazionale, quindi che orbita a 400 km sulla superficie terrestre. È stato ovviamente in time lapse, quindi diciamo il tempo è accelerato. Viene ripresa la generazione di aurore boreali durante un'intensa attività solare. Quindi queste particelle giungono sulla Terra, penetrano nell'atmosfera dai poli, eccitano gli atomi dell'atmosfera e generano questi spettacoli di luce, visibili ovviamente dai poli oppure dalla Stazione Spaziale Internazionale. Ora potete immaginare che descrivere la dinamica di un sistema di questo tipo è estremamente complicato, perché innanzitutto è un fluido magnetizzato, un fluido carico magnetizzato, quindi descrivere la dinamica di questo sistema è complicato e le equazioni che descrivono la dinamica di questo sistema sono difficilmente risolvibili a mano. D'accordo? È quasi impossibile, se non in casi estremamente semplificati, riuscire a tirare fuori dal sistema di equazioni che governa la dinamica di questo sistema delle soluzioni. Quello che noi facciamo nel gruppo di plasmi astrofisici, almeno una parte del gruppo di plasmi astrofisici, è quello di scrivere dei software al computer che ci permettono di risolvere le equazioni che governano questo tipo di sistema, in qualche modo modellizzare e fare delle previsioni sul comportamento di questo sistema. Ora adesso vi mostrerò in questo primo video, diciamo, l'interazione tra vento solare, questa è la Terra, l'interazione tra il vento solare che porta con sé il campo magnetico del Sole all'interno dell'eliosfera e il campo magnetico terrestre. Questo video è una cortesi del gruppo di plasmi finlandese realizzato con il software Vlasiator. È un tipo di simulazione che viene chiamata simulazione globale, ovvero si descrive globalmente l'interazione che c'è fra il vento solare, che proviene in questo caso dalla destra, che impatta sulla Terra, che è il pallino bianco qui. E questo è quello che succede, vedete? Una volta che il vento solare arriva e incontra l'ostacolo, si addensa, quindi le zone rosse qui sono a densità più alta, si formano da durto, il flusso di particelle comincia a fluire attorno all'ostacolo, nello stesso tempo il moto di questo fluido diventa complicato, non è più laminare come era inizialmente, ma diventa turbolento. Si creano scale sempre più piccole, si creano vortici, si creano zone in cui la dinamica è caotica e così via. Questo è quello che succede più o meno analogamente in un fluido, quando abbiamo un flusso di acqua e incontra un ostacolo, quello che succede a valle dell'ostacolo è che la dinamica del fluido diventa complicata, si generano dei vortici, si genera una turbolenza e così via. Un altro tipo di simulazione di questo tipo sono le cosiddette simulazioni locali, ovvero si sceglie un pezzettino di questo sistema, ad esempio immaginate di prendere un cubetto tridimensionale di dimensioni ridotte rispetto alle dimensioni di questo sistema grande qui, e si studia come evolve questo sistema, come evolve ad esempio la turbolenza di questo flusso, di questo fluido in un cubetto di dimensioni ridotte rispetto a quelle globali del sistema Terrasole. Questo è quello che si fa, quello che facciamo ad esempio con uno dei nostri codici che viene chiamato Hybrid Blast of Maxwell, di cui sono uno degli sviluppatori, vedete questa è la turbolenza che si sviluppa in un cubo tridimensionale che può essere ad esempio preso in una regione di spazio in cui si è sviluppata questa dinamica turbolenta. Vedete qui c'è la generazione di scale sempre più piccole, la formazione di vortici e di isole che interagiscono fra di loro, che si spostano, che collassano e via dicendo. Grazie a questi modelli noi riusciamo a fare delle previsioni su cosa può succedere quando due sistemi di questo tipo vengono a contatto fra di loro, è quello che più o meno si fa quando si fanno le previsioni del tempo. Anche per fare le previsioni del tempo esistono dei codici numerici che risolvono le equazioni che descrivono la dinamica dell'atmosfera e in base a quelle si riesce a fare previsioni su quale saranno le perturbazioni che arriveranno sulla Calabria, ad esempio fra due o tre giorni e così via. Un'altra domanda a cui mi trovo molte volte a dover rispondere è perché è importante studiare questo tipo di sistema. E diso anche qui, questa mi ha vado di vedere, le risposte possono essere raggruppate in due macrosettori, diciamo così. La prima è la necessità per ogni ricercatore di soddisfare la sete di sapere che è alla base del nostro mestiere. Ci sono tantissimi problemi irrisolti nella dinamica di questo sistema, come ad esempio, qui ci do qualcuno, perché il mezzo interplanetario è così caldo? Cos'è che lo riscalda localmente? Quali sono i meccanismi fisici di accelerazione? Perché è così veloce? Oltredutto il mezzo interplanetario è un perfetto laboratorio naturale in cui si possono fare misure di turbolenza, cioè il mezzo interplanetario è un mezzo turbolento, è vicino a noi, è accessibile, noi tramite delle sonde, dei satelliti possiamo andare lì e fare delle misure, d'accordo? E questo ci aiuta nella comprensione della dinamica turbolenta dei fluidi magnetizzati, che è uno dei problemi, diciamo, dei problemi più importanti di questo tipo di sistema. L'altro gruppo di risposte a questa domanda è legato alla qualità della vita dell'uomo sulla Terra. Ad esempio, una delle domande potrebbe essere è possibile fare delle previsioni attendibili sugli effetti dell'attività solare sulla Terra? Questo è oggetto della disciplina dello space weather, cosiddetta meteorologia spaziale, che è una disciplina che è giovane, nata una decina di anni fa, credo, ma che ha avuto una crescita esponenziale. Qui in questa sala abbiamo il presidente della società italiana di space weather, il professor Carbone, no? Quindi siamo impegnati anche a questo... Siamo impegnati anche in questa area di ricerca. Quindi la domanda è, è possibile, facendo delle misure di questo sistema in situ, cioè con delle sonde che vanno lì e misurano le proprietà del plasma, è possibile fare previsioni di quali siano gli effetti dell'attività solare su quello che succede sulla Terra? Ci tornerò su questo punto perché è molto importante, e ha anche risvolti economici non indifferenti. La terza, la seconda domanda in questo secondo gruppo è, sarà possibile vincere la cosiddetta sfida del terzo millennio, ovvero quella di realizzare la cosiddetta fusione termonucleare controllata per la produzione di energia pulita utilizzando i plasmi artificiali. Cioè sarà possibile, producendo un plasma, intrappolandolo e aumentandolo nella temperatura, innescare il processo di fusione nucleare, che è il processo fisico che accende e riscalda le stelle. Ci sono tantissimi progetti internazionali, uno di questi è ITER, il reattore che verrà costruito in Francia, ma ce ne sono tantissimi sparsi per il mondo, che hanno come scopo quello di studiare il processo fisico che innescherebbe la fusione utilizzando un plasma artificiale. La domanda è, riusciremo a farlo sì o no? Partiamo dal primo gruppo di risposte, ovvero la sete che ha ogni ricercatore di capire le cose che sta studiando e di risolvere i problemi ancora risolti, solo per il gusto di farlo. Come vi dicevo prima, la dinamica di questo sistema diventa turbolenta, ad esempio quando il flusso delle particelle di vento solare incontro del campo magnetico terrestre, si generano queste regioni in cui vedete la dinamica non è più ordinata, diciamo così, ma è caotica, quindi il flusso diventa turbolento. Qui vi ho portato ad esempio un celebre disegno di Leonardo da Vinci, perché il problema della turbolenza era noto già ai tempi di Leonardo e veniva studiato già ai tempi di Leonardo. Questa è la turbolenza che si genera quando un flusso d'acqua da un canale cade su una pozza di acqua inizialmente inquieta e si formano dei vortici delle strutture, la dinamica diventa turbolenta. Questa è la turbolenza sviluppata nel fumo di una sigaretta, oppure questo è un esempio classico di turbolenza astrofisica, è la nebulosa del granchio. Qui, come dicevo prima, la turbolenza è uno dei problemi più affascinanti della fisica moderna, e questa è quasi una contraddizione in termini, perché è studiata dall'epoca di Leonardo, ma è uno dei problemi classici più affascinanti della fisica moderna, perché ancora oggi le domande che, diciamo, alla base dei sistemi turbolenti richiedono una risposta. Vi riporto qui cosa scrisse Sir Ola Slump a proposito di questo problema. Ve lo trucco dall'inglese. Quando muoio e vado in paradiso, ci sono due cose su cui spero di avere elucidazione dal Padre Eterno. Una è l'elettrodinamica quantistica e l'altra è il mutuo turbolento dei fluidi. A proposito della prima, sono molto ottimista. Lascio intendere che, invece, il secondo è un problema ancora aperto. Infatti, circa 60 anni dopo, Selene Sivan, che è un fisico matematico indiano, scrisse, in risposta a quello che scrisse Lamb, oggi, diciamo, non c'è più bisogno di andare in paradiso per avere elucidazioni sull'elettrodinamica quantistica, ma per la turbolenza ancora sfugge la nostra comprensione. Quindi è un problema che si conosceva dall'epoca di Galileo, ma che tuttora ha dei problemi aperti, irrisolti, dei fluidi, immaginiamoci nei plasmi in cui ci sono di mezzo anche i campi elettrici e magnetici a complicare tutta la dinamica. Adesso passiamo al secondo gruppo di risposte che vi ho accennato prima. Ho intitolato questa slide relazioni Sole-Terra per mettere in evidenza che come l'attività del Sole può influenzare la nostra vita sulla Terra e perché è importante studiare questo sistema e per comprendere quali sono le relazioni fra un evento che avviene sul Sole e la reazione che si ha sulla Terra. Ma voi sapete diciamo il disco solare non è omogeneo, uniforme, presenta queste macchie scure che vengono chiamate appunto macchie solari. Sono delle regioni sulla superficie del Sole in cui c'è una forte attività magnetica. L'attività magnetica qui dentro è molto forte, la temperatura più bassa ecco perché appaiono più scure. sin da tempi diciamo qui dal 1600 si era capito che l'attività magnetica solare si può misurare in termini del numero di macchie che appaiono sul disco. Quindi più macchie ci sono più l'attività magnetica del Sole è importante. La superficie del Sole non è una superficie tranquilla così come la vediamo ad occhio nudo ma se voi la vedete vi riporto qui un video presso da una sonda che orbita vicino al Sole vedete quello che succede sulla superficie solare ci sono degli esplosioni dei getti di materiale improvvisi che possono ricadere sulla superficie del Sole questo è un arco coronale vedete possono ricadere sulla superficie del Sole a causa della forza di gravità o possono essere espulsi a grandissima velocità nello spazio interplanetario quindi riempiono l'eliosfera. Questo è un esempio di loop coronale e se adesso appare qui la Terra per confronto vi faccio vedere qual è la dimensione tipica di questo oggetto qui eccola qui questa è la dimensione della Terra quindi guardate quanto è grande questa struttura rispetto alla Terra quindi parte di questo materiale viene eiettata nello spazio a grandissima velocità a grandissima temperatura e può raggiungere ovviamente la Terra un'altra parte di questo materiale ricade per effetto della gravità e si formano queste diciamo spettacolari strutture chiamati loop coronale allora come vi dicevo prima ci si era resi conto già da tempi passati che il livello di attività magnetica solare può essere misurato tenendo conto del numero delle macchie che appaiono sul disco questo è un grafico in cui sull'asse delle X abbiamo il tempo in anni e sull'asse delle Y non abbiamo il numero di macchie osservate sul disco vedete che questo andamento è un andamento più o meno periodico il periodo di oscillazione è di quasi 11 anni ma abbiamo dei periodi di tempo questo periodo di tempo di quasi 50 anni è famoso come minimo di Maunder in cui il numero di macchie solari è stato molto basso per un periodo prolungato di tempo e per mostrarvi come qual è la relazione fra il numero di macchie che sono presenti sul sole e quindi l'attività magnetica sul sole e quello che accade sulla terra ho riportato una pittura dell'epoca diciamo alla fine del secolo del 1600 in cui vedete a causa di questo minimo di attività magnetica solare le temperature sulla terra erano talmente basse sono rimaste basse per un periodo di tempo molto lungo tanto che il letto dei fiumi Senna e Tamigi era completamente ghiacciato e ci si facevano dei mercati sopra quindi sono rimasti ghiacciati per tantissimo tempo ora gli studi di questo tipo di attività e di relazioni fra sole e terra attualmente sono rivolti a capire quali sono diciamo in maniera concreta il legame che c'è fra l'attività del sole e il clima sulla terra ovviamente stabilire una correlazione fra i due venti è assolutamente non facile perché diciamo il sistema è estremamente complesso però diciamo c'è chi pensa che il riscaldamento globale di cui siamo testimoni in questi anni sia dovuto solamente in una piccola percentuale all'effetto dell'uomo ma che sia dovuto soprattutto a quello che sta accadendo sulla nostra stella d'accordo? quindi studiare quello che il sole ci manda quindi il flusso di particelle cariche che il sole ci manda e che ci investe può darci informazioni molto importanti anche per stabilire quali sono le relazioni fra attività solare e clima e clima sulla terra adesso veniamo a quello che vi ho anticipato prima lo space weather alla cosiddetta meteorologia spaziale questo è un bellissimo è un estratto di un articolo molto carino che trovate in rete su universetoday.com in cui un ricercatore ha fatto il conto di quanti satelliti artificiali sono presenti orbitano attorno alla terra questo è un cartoon in cui vi mostro ovviamente una schematizzazione di che tipo di traffico c'è di satelliti che orbitano attorno alla terra in questo conto si dice che 1100 sono i satelliti attivi sono privati o pubblici diciamo mandati con i soldi dei governi poi ce ne sono circa 2600 che non sono più in funzione e il primo è stato lanciato in orbita nel 1958 anzi nel 1957 lo sputnik 1 ora capite che la componente tecnologica su questi aggeggi è diciamo spinta fino alla massima spinta al massimo d'accordo? perché sono oggetti in cui sono montati degli strumenti per fare misure scientifiche oppure sono strumenti dedicati alle telecomunicazioni alle previsioni di meteo alle trasmissioni televisive eccetera eccetera quindi potete immaginare che quando vengono investiti da un flusso di particelle diciamo carico estremamente veloce ed energetico possono subire dei danni e noi possiamo solo immaginare quale può essere il danno prodotto da una cosa di questo tipo in realtà la Lloyd Insurance Company lo ha stimato in particolare ha fatto riferimento al famoso evento Carrington nel 1859 quando una grossissima bolla di plasma cosiddetta coronal mass ejection si staccò dal sole arrivò sulla terra e produsse delle orore boreali che sono state visibili secondo le cronache dell'epoca a latitudini anche di Roma secondo le cronache dell'epoca era possibile leggere il giornale come se fosse giorno anche di notte la Lloyd Insurance Company ha stimato che se un evento di questo tipo dovesse accadere oggi con tutti i satelliti che sono in orbita basati fortemente su una tecnologia molto avanzata il danno sarebbe di 2.6 trilioni di dollari cioè 2.600 miliardi di dollari e 20 volte il danno prodotto dall'oragano Catrina tutto questo per dirvi che se noi fossimo in grado di prevedere questi eventi con anticipo quindi se fossimo in grado di fare dei modelli attendibili ci permettono di dire a valle dell'osservazione di una eiezione di massa dal sole quindi una bolla di plasma che viaggia nello spazio interplanetario di dire guardate che questa raggiungerà fra un tot di tempo la terra noi potremmo ad esempio pensare di mettere questi satelliti in safe mode quindi spegnere le componenti elettroniche più sofisticate e diciamo salvaguardarli quindi questo diciamo è una disciplina in cui l'America da più tempo ma anche l'Europa sta investendo tanti soldi l'altro punto a cui vi ho accenuto prima è la produzione di energia pulita dai plasmi e vi ho accennato alla cosiddetta sfida del terzo millennio quella della produzione di energia pulita dal processo di fusione nucleare come vi ho accennato prima la fusione nucleare è il processo fisico che accende le stelle che avviene al centro delle stelle le accende e le sostiene attualmente le nostre centrali nucleari si basano sul processo di fissione nucleare che è un nucleo di un elemento pesante come uranio o plutonio venga scisso con una produzione di energia elevata ma anche con il rischio radioattivo d'accordo? oltretutto questo è un evento esplosivo questa è una foto del famoso test Baker del 25 luglio 1946 la performazione del fungo atomico quindi se si riuscisse a realizzare sulla Terra ciò che avviene sulle stelle e quindi diciamo la produzione di energia dalla fusione di tuoi nuclei e non dalla fissione avremo una quantità di energia enorme con un rischio diciamo scorie la produzione di scorie radioattive ridotto ovviamente questo non è semplice perché la fusione nucleare avviene naturalmente sulle stelle a una temperatura di 150 milioni di gradi centigradi o kelvin quello che volete quindi diciamo sono condizioni estreme da realizzare sulla Terra per le macchine che vengono utilizzate per cercare di innescare questo processo fisico vengono dette come dicevo prima tokamak e più o meno il funzionamento è ben schematizzato da questo video delle neve vedete queste sono le particelle del plasma che se le mettete in un tubo sfuggono di qua e di là se io utilizzo delle bobbine per creare un campo magnetico all'interno di questo tubo le particelle si mettono a ruotare intorno al campo magnetico se il tubo lo richiudo su se stesso quello che faranno le particelle è ruotare attorno al campo magnetico e ruotare attorno al toro una volta che le ho confinate posso far passare una scarica elettrica all'interno di questo gas del plasma che ho intrappolato con l'intento di aumentarne la temperatura e portarla fino a 150 milioni di gradi per innescare i processi di fusione a questa temperatura si vince la repulsione colombiana che c'è fra i due carichi di segno uguale e si può realizzare il processo di fusione questo detto proprio in maniera più semplice possibile ovviamente le cose non sono così semplici altrimenti l'avremmo già fatta i problemi che ci sono su questo tipo di apparati sono soprattutto di confinamento magnetico è difficile tenere il plasma lì anche utilizzando i campi magnetici una particolare configurazione magnetici ci sono problemi di confinamento cioè la configurazione di equilibrio non è stabile si ha perdita di plasma che sfugge e va verso le pareti e questo diciamo impedisce la realizzazione del processo come vi dicevo prima ci sono tanti progetti internazionali che hanno come fine quello di realizzare la fusione uno di questi è ITER una grossa macchina un grosso tokamak che verrà costruito in Francia un investimento grossissimo in cui sono coinvolte tutte le superpotenze mondiali anche l'Italia 21 miliardi di euro quindi diciamo tutta la sarà come diceva Gaetano anche oggi durante la nostra riunione di giunta forse il progetto più importante di questo secolo giusto? almeno del primo mezzo secolo quindi diciamo una grossissima parte della comunità scientifica internazionale sarà impegnata su questo tipo di progetto attorno al progetto ITER ci sono tanti progetti satelliti in cui vengono realizzati delle macchine strumentali più piccole che servono per supportare la fisica di ITER che sarà il progetto più importante verso la realizzazione della fusione dal punto di vista nostro che facciamo fisica spaziale qual è il contributo che noi possiamo dare su tutti i punti che ho discusso fino adesso ed è qui che vi introduco il grosso progetto in cui siamo coinvolti l'ESA l'Agenzia Spaziale Europea nell'ambito del programma Cosmic Vision 2015-2025 e con il supporto delle Agenzie Spaziale Nazionali quindi l'ASI per l'Italia o le Agenzie Spaziali delle altre Nazioni Europee finanzia periodicamente la progettazione e la costruzione di satelliti spaziali da mandare in orbita nello spazio per dare risposta a quattro interrogativi fondamentali che sono quali sono le condizioni per la formazione dei pianeti e per la nascita di vita su di essi come funziona il sistema solare quali sono le leggi della fisica fondamentale dell'universo e come ha avuto origine l'universo e da cosa è composto questo vuol dire che la comunità internazionale è chiamata a sottomettere all'avvaglio dell'ESA dei progetti in cui si prevede la costruzione di questi aggeggi da mandare nello spazio fare misure per caratterizzare il sistema che si vuole caratterizzare e dare risposta a una di queste quattro domande nell'ambito del programma a lungo termine Cosmic Vision nel gennaio del 2015 l'ESA ha aperto la selezione dei cosiddetti progetti di classe M classe M vuol dire medium per i quali è previsto un finanziamento totale di 500 milioni di euro nell'ambito di questi progetti si deve progettare quindi ideare una missione spaziale che verrà poi lanciata quella che vincerà la selezione nel 2026 nel febbraio del 2014 mi trovavo a Berna in una diciamo riunione della in un meeting diciamo scientifico di fisica spaziale e diciamo Alessandro Retinò che qualcuno di voi ha visto qui poco tempo fa è venuto a farci un seminario proprio su Tor e il professor Andris Vaivats dello Swedish Institute Space Physics mi invitarono a partecipare ad un progetto che loro avevano in mente di sottomettere a questo bando Cosmic Vision e mi proposero di occuparmi di coordinare il team di supporto numerico al progetto ovvero di occuparmi di fare i modelli numerici come vi spiegavo prima per supportare la fase di design e di progettazione del satellite questo satellite lo abbiamo chiamato Tor Turbulence Heating Observer e diciamo è stato sottomesso nel gennaio del 2015 in risposta alla call dell'ESA vi riporto questo è un estratto del proposal di Tor in cui vi evidenzio qual è la scienza che si vuole fare il sottotitolo del proposal è Exploring Plasma Energization in Space Turbulence e le domande scientifiche alle quali Tor si propone di dare risposta sono come è riscaldato il plasma del mezzo interplanetario e come viene accelerato come viene dissipata come viene diciamo come si dice partitioned divisa l'energia dissipata tra le diverse specie che compongono il plasma e come opera la turbolenza e la dissipazione in differenti in differenti regini e ovviamente il satellite si propone di fare misure in diverse regioni dello spazio quindi nel vento solare diciamo incontaminato nella zona vicina alla terra quindi degli shock e in altre regioni ma la cosa importante da qui è tirare fuori che Tor è la prima missione in assoluto dedicata esclusivamente alla fisica del plasma perché quello che noi proponiamo di andare a fare lì su è fare delle misure che caratterizzino il nostro vento solare il mezzo interplanetario tutto quello che volete ma per studiare la fisica dei plasma Tor è la prima missione che si occuperà di questo mi ricordo che dopo c'è stato un grosso lavoro nel 2014 alla fine del 2014 nella scrittura del proposal molti membri del gruppo di cui faccio parte hanno lavorato insieme a me Luca Sorriso Sergio Servidio Caetano Zimbardo Silvia Perri Vincenzo Carbone alla preparazione di questo proposal gli ultimi mesi sono stati molto delicati perché poi alla fine le cose si arrivano a fare sempre in fretta abbiamo sottomesso il nostro proposal e da lì abbiamo iniziato a fare attività di divulgazione cioè andavamo nelle conferenze presentavamo il progetto e così via devo dire che inizialmente non diciamo nessuno avrebbe scommesso probabilmente un euro sul fatto che noi avremmo passato le prime fasi di selezione dal gennaio del 2015 fino a adesso ce ne sono state due la prima fase di selezione è stata una selezione erano una trentina di proposal inizialmente la prima fase di selezione è stata una selezione tecnica in cui sono stati scartati i progetti che non erano maturi secondo la commissione dell'ESA scientificamente o che avevano dei problemi strutturali importanti per cui non erano ancora pronti per affrontare una fase di studio la seconda selezione invece è una selezione scientifica che è avvenuta nel giugno del 2015 e che era molto importante quindi nella prima fase da 30 siamo passati a 10 nella seconda fase a giugno del 2015 si sarebbe passati da 10 a 3 quindi era una fase molto importante che noi abbiamo aspettato diciamo con grande trepidazione e a proposito di questo vi voglio raccontare un aneddoto che successe proprio la mattina del 4 giugno 2015 quando ho avuto la notizia che Torre aveva passato la selezione mi sono conservato l'email che mi ha mandato Andri Svajvats cioè il leader del proposal vedete un po' 5.53 del mattino ormai adesso appena ci svegliamo la prima cosa che facciamo è accendere il telefonino appena c'è il telefonino ho lampeggiato la cosa dell'email e ho ricevuto questa selezione immaginate un progetto di questa importanza che passa a una selezione così importante il messaggio di Vajvats è stato good morning friends you may be heard the rumors that Tor passed cioè cari amici potreste sentire potreste aver sentito la notizia che Torre è passato ho soprannominato queste email che ho conservato gelosamente come massima espressione dell'entusiasmo svedese adesso vi chiedo di immaginare qual è stata la mia direzione col telefono in mano alle 7 del mattino non potevo gridare perché il bimbo ancora dormiva ma più o meno doveva avere una faccia tipo questa qui non è messa a caso questa immagine qua perché io mi ricordo che ero con questo telefono in mano con una faccia più o meno simile a questa mia moglie mi ha guardato e mi ha detto ma che è successo sempre di schillaggi nel mondiale del 90 e perciò ho messo questa foto qui perché probabilmente la mia faccia era questa qua fondamentalmente non ci credevo tanto nemmeno io dopo i primi minuti di sbandamento poi in realtà più tardi nella mattinata l'ESA ha dato comunicazione ufficiale che Tor Turbulent Eating Observer è stato selezionato per la fase finale di valutazione insieme alle missioni XIP che si occuperà di Raggi X e Ariel che farà una large survey di pianeti exoplanets cercando tracce di vita sui pianeti nel sistema solare e anche fuori credo quindi Tor è passato e di questo poi se ne è andata notizia rapidamente su un sito dell'Unica la Gazzetta del Sud il sito dell'Istituto Nazionale di Astrofisica il sole 24 ore ha dato spazio al gruppo di fisica astrofisica dell'Università della Calabria e via dicendo dopo essere stati selezionati è iniziata la cosiddetta fase di studio quindi queste tre proposte che sono rimaste sono adesso tuttora in fase di studio cioè quello che è successo è che l'ESA l'Agenzia Spaziale Europea ha creato un gruppo di lavoro formato circa da 20 persone diciamo parte di questi del team di Tor e parte ingegneri aerospaziali dell'Agenzia Spaziale Europea che lavoreranno insieme per due anni beh adesso ormai due anni sono quasi finiti per lo sviluppo del satellite quindi quello che stiamo facendo io faccio parte di questo gruppo che si chiama Science Study Team SST lavoreranno per fare lo sviluppo lo studio diciamo di fattibilità scientifica e tecnica del satellite fino alla selezione finale che avverrà nel giugno del 2017 al giugno del 2017 l'ESA deciderà a valle diciamo della presentazione di un documento in cui noi racconteremo quali sono stati i passi in avanti e gli sviluppi del nostro progetto se ne sceglierà uno solo che avverrà nel 2026 questo è Tor una vista frontale da diverse angolazioni del satellite è un oggetto è un cassone di 4 metri di diametro più o meno per uno di altezza del peso di 1300-1500 kg ancora non è stabilito perché ancora ci stiamo lavorando su su cui verranno montati 10 strumenti 10 strumenti altamente tecnologici progettati per fare misure di campi elettrici campi magnetici e proprietà del plasma ovvero densità velocità temperatura e via dicendo le misure che proponiamo di fare sono misure che non sono mai state fatte fino ad ora meglio diciamo meglio sono state fatte ma non alla risoluzione che proponiamo noi noi ci proponiamo di fare misure a risoluzioni mai raggiunte fino ad ora perché pensiamo che lì si nasconde il segreto del riscaldamento dei processi di accelerazione di questo sistema l'attività di Tor dovrà durare tre anni quindi partirà se verrà selezionato nel 2026 e finirà nel 2027 qui sono schematizzate le orbite di Tor nel primo anno si resterà attorno alla Terra diciamo più o meno nella zona all'interno della Boshock terrestre nel secondo anno ci spingeremo un po' più in là subito al di fuori dell'onda d'urto nel terzo anno voleremo nel vento solare incontaminato e faremo misure di diverso tipo in questi tre sistemi diversi questa è la cosiddetta Road to Space come dicevo il proposal è stato sottomesso il gennaio 2015 la selezione per la fase di studio è avvenuta il 4 giugno del 2015 è iniziata e già conclusa la fase 0 in cui diciamo quello che si è fatto è stato rispondere alle obiezioni che ci venivano fatte sul proposal da parte degli scienziati dell'ESA il nostro proposal è stato selezionato ma non senza critiche abbiamo avuto delle critiche a cui abbiamo dovuto rispondere questo è stato fatto nella prima fase 0 e devo dire che avevamo due flag rosse red flags si chiamano cioè delle bandirine rosse che vengono messe vicino ai punti diciamo che sono stati ritenuti critici dagli ingegneri dell'ESA tutte e due le bandirine rosse per il momento sono state eliminate quindi questa fase l'abbiamo passata si può dire con successo nel 2016 siamo in phase A la fase di sviluppo che porterà alla scrittura di questo documento che si chiama Yellow Book in cui verranno diciamo riassunte tutte le attività fatte durante questo periodo ci sarà il secondo un workshop scientifico su Tor in cui tutta la comunità scientifica è invitata a partecipare soprattutto quella americana si terrà a Barcellona e poi nel 2017 alla fine della primavera del 2017 ci sarà la cosiddetta Down Selection da tre progetti si passerà a uno che continuerà poi il suo lavoro il team di quella di quella proposta continuerà il suo lavoro fino al lancio previsto nel 2026 quindi in questo Tor c'è tanta Italia come potete immaginare non c'è solo il nostro gruppo ma c'è anche un gruppo di Roma dell'IAPS Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale che si occuperà di costruire uno degli strumenti che sarà montato a bordo di Tor la nostra collega Maria Federica Marcucci sarà la responsabile di questo strumento che verrà montato a bordo del satellite e servirà per fare misure di particelle però c'è da dire che anche le altre due missioni c'è molta Italia dentro perché addirittura Aria e l'ex IP i responsabili principali sono tutti e due italiani quindi in questo sistema di selezione l'agenzia spaziale italiana si trova a dover diciamo gestire tre proposte e appoggiarle in un certo senso tutte e tre per quanto riguarda la fase di studio le sta appoggiando tutte e tre anche in maniera economicamente fra un po' di tempo ci aspettiamo che prenda una strada delle tre e quella sarà la strada che probabilmente verrà selezionata va bene io mi fermo qua questo è un photoshop ovviamente non è una questa è la tuta della Cristoforetti se voi andate all'ESA vi potete fare la foto con la tuta della Cristoforetti non vi annoio più ho concluso e questo è quello che vi volevo raccontare grazie dunque abbiamo tempo per delle domande chi vuole fare domande volevo chiedere abbiamo visto che ci sono 2600 satelliti non funzionanti più volevo chiedere come se c'è la comunità scientifica si preoccupa del problema di cosa fanno e di quelli non funzionanti e se intorno c'è uno costa portarli giù quindi la cosa innanzitutto non sono tutti quanti scientifici non sono tutti 2600 stati costruiti per fare misure scientifiche la cosa più semplice è lasciarli lì perché portarli a terra penso che costi bisogna manovrarli quindi secondo me resteranno lì il termine non diventa un problema anche tra i loro è possibile certo sì ecco rispondo io perché mi è capitato di trovarmi vicino a questa problematica è un problema abbastanza importante perché i satelliti fuori uso sono pericolosi per gli altri satelliti perché costituiscono dei ruderi dei resti che sono comunque in orbita e la velocità relativa tra i satelliti è sempre molto elevata a qualche chilometro al secondo quindi se un perso se un bullone di un satellite vecchio urta un satellite nuovo gli fa un buco certo e questo è il problema che è chiamato il problema dello space debris che più o meno vuol dire spazzatura spaziale allora per risolvere questo problema le agenzie spaziali hanno dei programmi per raccogliere i pezzi di satelliti in orbita e io ho visto un progetto che era costituito da una macchina che doveva acchiappare i pezzetti satelliti con dei bracci meccanici e raccoglierli però magari non portare la terra però ci sono dei progetti proprio per ripulire lo spazio dai pezzetti più grossi che si riescono a individuare per evitare che siano dei proiettili che poi vanno a danneggiare gli altri satelliti in orbita e quindi questo è un problema abbastanza importante perché ormai lo spazio è relativamente pieno di resti satelliti in realtà ti posso aggiungere che diciamo anche adesso che mi sto avvicinando a queste cose qui all'ESA ci si chiede di prevedere una spesa per il propellente che servirebbe a riportare l'attrezzo giù dopo che ha finito di lavorare nello specifico per Tor non credo che sia questo il caso perché se dovessimo venire selezionati dopo i tre anni di attività ci saranno due anni di estensione e dopo i due anni di estensione probabilmente lo parcheggeremo nel punto Lagrangiano L1 e continueremo a fare misure di supporto fino a quando non sarà fuori uso per altri motivi però ci raccontavano che questa previsione di spesa poi alla fine dei conti viene sempre cancellata perché è quella che fa sporare quindi la cancellano e quindi non si ha propellente per riportare in atmosfera i satelliti che non servono più Altre domande? anche se avete curiosità se riesco a rispondere a esaudire le vostre io volevo fare una considerazione su quello che hai detto prima che i satelliti artificiali sono soggetti a essere danneggiati dalle perturbazioni dello spazio dalle perturbazioni spaziali perché usano tecnologie molto avanzate elettronica e così via e questo è sicuramente vero e questo mi ha fatto in mente una cosa che di fatto le attività spaziali nel loro complesso dalla International Space Station ai satelliti per telecomunicazione a quelli per esplorazione scientifica di fatto sono il principale motore per lo sviluppo industriale cioè l'innovazione industriale guidata proprio dalle attività spaziali quindi sono attività che hanno poi una ricaduta un po' in tutti i settori non è da sottovalutare il fatto che le industrie che si occupano storicamente di costruire pezzi che vanno montati sui satelliti sono poi la fin meccanica per esempio o la salenia sono le industrie che poi sono leader mondiali nel sviluppo tecnologico l'Airbus anche altre domande? va bene se non ci sono altre domande ci fermiamo e c'è un altro seminario alle 4 e mezza ora